Ed eccoci per l'ultima proiezione qui in Casa del Sole, che è un lungometraggio di 80 minuti che si chiama Lifeline, di Rudolf Affleck. Come prima abbiamo anche adesso il regista qui con noi che invito sempre assieme alla nostra bellissima e bravissima luna. Come prima vorrei cercare di introdurre la pellicola senza rovinare l'atmosfera, quindi chi sono Petra e Lucy? Ciao a tutti, qui è Peter? Il personale è il migliorno del migliorno del mondo, che pensa che è il migliorno in tutto ciò che fa, quindi ha un grande ego e si fa fare il migliorno del migliorno del migliorno perché pensa che non può fare alcun errore, quindi questo è il principale del film. Lucy è la figlia? Sì. Pertanto opera addirittura la sua stessa figlia, Lucy. L'Ischia Film Festival, ecco la domanda che ho fatto anche prima, è il Festival delle Location. Qual è il ruolo della Location, che ruolo gioca la Location all'interno della sua opera? L'Ischia Film Festival è molto importante per noi, perché abbiamo fatto tutto il film in l'Ischia, e abbiamo usato la natura e l'Ischia in l'Ischia come la terza parte del film, perché puoi vedere che la natura reagisce alla situazione in l'Ischia. e quindi lo usiamo per mostrare le persone come il Pietro si sentiva. È tutto sembra come un personaggio, come quasi un personaggio. Esatto. La Location per noi è particolarmente importante. Difatti abbiamo girato tutto il film in Islanda, e abbiamo usato l'Islanda e la natura stessa come una sorta di terzo personaggio. Questa è l'anteprima italiana dell'Opera, ma sappiamo che sta lavorando anche ad altri progetti. Ce ne parla? Sì, perché in maggior parte sto facendo le cose più commerciale, quindi ho lavorando su un nuovo strumento, che si parla di un paolo, che si trattano in l'Ischia in l'Ischia. E questo paolo è in una crisi, perché lei ha detto che ha chiesto un divorzio. E dopo questo si trattano in l'Ischia e hanno bisogno di capire cosa fare e come survivere. E, ovviamente, hanno bisogno di parlare di tantissime cose che non parlavano tanto tanto. Beh, in questo momento sto facendo cose abbastanza commerciali. Il mio prossimo film parlerà di una coppia che finisce su un'isola deserta. Il problema è che lui vuole utilizzare questo momento per parlare con lei del loro divorzio. Difatti stanno attraversando un periodo molto difficile. Nel momento in cui finiscono su quest'isola, devono però concentrarsi su come sopravvivere e avranno molte cose di cui discutere. Va bene, allora, quindi se vi piace Lifeline, poi potete seguire sempre Rudolf Avlik per i suoi prossimi progetti. e io lo ringrazio, ringrazio ancora Luna di Meglio e ringrazio ancora voi. Vi auguro buona visione, Lifeline. Thank you very much, I hope you enjoy the movie and ciao and see you again.